Nelle ultime settimane si sono risollevate alcune voci su una presunta relazione tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti, in seguito alle foto pubblicate da quest'ultimo che lo ritraevano abbracciato alla showgirl. Gli scatti hanno scatenato il web contro Elisabetta, da sempre riservata sulla propria vita privata, portandola a pubblicare un lungo sfogo su Instagram, dove annunciava di non essere impegnata e nel caso lo facesse, era lei la prima ad avvisare i fan. Silenzio scelto anche durante la sua permanenza al grande fratello Vip, quando non sono mancante insinuazioni sulla relazione tra i due mentre diversi aerei sorvolavano il cielo della casa con frasi romantiche a lei indirizzate e che si è pensato provenissero da Coletti. Certo l'intesa tra la showgirl e il pilota non è mai mancata, come manifestavano le fotocitate e quelle pubblicate da Diva e Donna che ritraggono i due insieme, sorpresi la scorsa estate sullo yacht di Flavio Briatore. Cosa ne pensate? Elisabetta continuerà a negare tutto?